Salve a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video Marcando l'Omatone Oggi siamo davanti a casa di Jenny Vedete, era già delle chiavi Ma devo cercare di entrare C'è niente da chiave C'è C'è il tappetone Ho paura per vedere dove sta Paura E paura In che stanza è ridotta 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 ok Grazie a tutti. 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 Ce ne mancano tre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.